musica 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 Amici di Fall4FVG, oggi sono a Maniago, in un luogo che ci riporta indietro nel tempo e che i più grandi chef in Italia e nel mondo considerano un tempio dei coltelli da cucina perché è proprio qui che le sapienti mani di Michele Massaro forgiano i loro coltelli buongiorno Michele ciao Erika dunque puoi raccontarmi che cosa ti ha spinto a rilevare questo battiferro e perché? allora è stato tutto un po' casuale poi il motivo in gran parte lo dice ciò che stiamo vedendo cioè il fascino del luogo mi ha fatto innamorare di quello che avrebbe potuto essere il mio futuro lavoro e così unendo quello che era un po' un un hobby fino a quel momento perché a Maniago tutti i ragazzi della mia generazione che l'hanno voluto sono un po' vicino a quello che è il mondo delle officine dove si produceva coltelli unendo un po' questo hobby e questo interesse a quello che avrebbe potuto essere il mio futuro ho rilevato il battiferro e ho iniziato pian piano a dedicarmi prima alla produzione degli attrezzi tradizionali che è quello che si realizzava qui quindi roncole, asce, coltellaci poi questi sono rimasti una piccola parte del mio lavoro e mi sono sempre di più dedicato a quella che era la mia passione ossia la cucina puoi raccontarmi qualcosa proprio del battiferro nel senso la struttura risale al che periodo? allora guarda la struttura si divide in tre volumi di diverse epoche quella dove siamo ora è la parte più vecchia ora non so dirti se sia del 400 piuttosto che del 700 o del 600 comunque questa era una delle strutture produttive del conte di Maniago è stata proprio di sua proprietà l'ha realizzata lui successivamente fino a 800-900 l'ha acquistata la famiglia che per lui diciamo portava avanti l'attività di produzione di manufatti che era la famiglia Beltrame nel 60 è stata venduta ai fratelli dei Narduzzi e poi sono arrivato io una bellissima storia quindi possiamo forse dire che risale addirittura il quindicesimo secolo potrebbe essere potrebbe essere non lo so non ho mai approfondito la ricerca comunque l'ha costruita il conte il conte che è la persona che nel quindicesimo secolo chiese la concessione al magistrato delle acque per poter realizzare le armi per l'esercito della Serenissima e quindi iniziò per motivi per motivi puramente commerciali quella che è diventata la tradizione di un paese che cosa rende così unici i tuoi coltelli? allora sarebbe bene chiederlo a quelli che sono i miei clienti ma soprattutto quelli che sono questi illustri personaggi del mondo della cucina che hanno scelto di lavorare con me penso li renda unici proprio il fatto che i miei più importanti maestri non sono i coltellinai ma tante persone che mi hanno aiutato a sviluppare quella che è la funzionalità del coltello quindi prima di tutto il coltello deve essere funzionale deve essere funzionale, deve tagliare specialmente in cucina in cui il secondo test il primo quello ho, bello, mi piace che bel lavoro hai fatto secondo test quello più importante che poi questa cosa che piace per motivi estetici deve tagliare, deve funzionare, deve tagliare ogni giorno se no viene messo in un cassetto dove ci sono altre tonnellate di attrezzi inutili pensati da persone che in cucina non sono mai entrate ti faccio un'ultima domanda se dico che un tuo coltello è un'opera d'arte tu cosa mi rispondi? allora questa è una domanda che spesso mi fa arrabbiare l'arte non ha nulla a che vedere con l'artigianato i miei coltelli sono a volte arte possono essere può essere vista una piccola chiave di lettura artistica ma sicuramente non sono arte sono artigianato non bisogna confondere un bel oggetto con arte l'arte è una forma di comunicazione il resto è manualità che non deve come spesso succede sfociare in un esercizio di stile sulle capacità manuali dell'artigiano spesso questo infatti porta alla violenza che viene fatta sull'oggetto nella fattispecie siamo arrivati al punto in cui i coltelli non sono più strumenti da taglio non tagliano più ma sono superlettri per prendere la polvere però in qualche modo credo che i tuoi coltelli richiamino forse quello che è la tradizione proprio nata qui a Maniago allora c'è un modo per riconoscerli? sicuramente c'è un modo per riconoscerli sono coltelli miei perché ho preso quella che era la tradizione di forgere il mio paese e l'ho resa attuale e contemporanea con la cucina di ora quindi è nato un prodotto nuovo che non esisteva prima ho lasciato una parte comunicativa che è il Brut de Forge che non è un comune Brut de Forge ma sono i segni non del martello sull'incudine non di un maglio qualsiasi ma sono i segni del maglio del mio paese valorizzati dal tipo di finitura che do al coltello quindi comunica da dove vengono la tradizione del paese e io ho messo in mano questo ai più importanti chef ora italiani che sono anche i più importanti al mondo quindi ha potuto quindi c'è un aspetto comunicativo artistico in tutto questo quello che non deve essere inteso come arte è l'oggetto in sé come manualità, realizzazione, finiture quella non è arte quella è artigianato è diverso un artigiano da un designer a un artista perfetto allora io ti ringrazio grazie a voi io adesso ho paura a finire l'intervista che magari utilizziamo i coltelli in una maniera diversa no, ho un'idea più interessante per chiudere l'intervista salutiamo gli amici ecco e poi vai dentro indietro? si tu non lo fai arriva fino alla fine e stop perché se fai questo movimento qui e se non lo fai in controtempo più tardi si, succede un casino ecco che meglio non succeda pronta? si vai 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 tira 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 come si dice quando scendi l'ultimo colto in controtempo vai dentro proviamo l'ultimo l'ultimo perché poi ci fa male perché è troppo caldo poi troppo caldo via tira 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 acciaio criccia dai dì che è un coltello proprio bellissimo è un gran coltello io te lo finirò te lo briderò a questo lo diciamo è un po'